Discovery Puglia è nata qui, mi dicevi, in piazzetta cattedrale ad Ostuni, sicuramente è un motivo di orgoglio far conoscere la Puglia, anche gli irlandesi, in particolar modo anche i giornalisti che oggi sono qui ospiti della città bianca. Intanto iniziamo parlando del tuo progetto, perché è nato e com'è nato? Discovery Puglia è nato sei anni fa a Ostuni, tornavamo verso il mare con la mia fidanzata e abbiamo deciso di mettere in piedi una formula turistica che potesse attraere una certa tipologia di visitatore internazionale. Con il passare degli anni poi si sono aggiunti altri ingredienti al mix e alla fine Discovery Puglia è diventato ciò che è adesso, un tuo progetto specializzato nella Puglia in Irlanda, l'unico veramente specializzato nella Puglia in Irlanda, che propone dei pacchetti di scoperte e di esperienze autentici, quanto più possibile autentici di questo fantastico territorio. Invece oggi vengono a trovarci anche dei giornalisti per far conoscere insomma anche tramite le loro parole quella che è la Puglia, com'è nato questo contatto? Il contatto con questi giornalisti esiste da tanti anni in verità, sono persone sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuove storie, che poi alla fine sono le storie quelle che affascinano e comunque in questo giro stiamo raccontando la tradizione del vino della Puglia dal chicco al bicchiere. Quindi gli stiamo facendo vedere cantine, masserie e tutto il contesto in cui questa tradizione del vino è inserita per appunto far capire che non esiste soltanto il vino del nord Italia, che è buonissimo, ma esiste anche qualcosa di decisamente valido anche a sud. Però un tocco particolare lo avete messo, il centro storico e poi la tradizione culinaria anche oggi? Assolutamente sì, è importante dargli il contesto, perché sul contesto poi le loro baseranno le loro storie, quindi quanto più contesto c'è tanto meglio è. Gli articoli li vedremo fra sei settimane, Discovery Puglia da qui ai prossimi step quali saranno? Beh, da qui al prossimo anno sicuramente ci sono gli appuntamenti internazionali molto importanti a cui parteciperemo e soprattutto c'è già la programmazione per il 2015 che è già in via di completamento, quindi siamo già pronti. Ryanair ha già riconfermato i voli su Bari da Dublino per il 2015 e siamo veramente molto contenti, significa che veramente sta andando bene. In bocca al lupo! Crepi! Il turismo è sicuramente un vettore importante della città di Ostuni, lo sta dimostrando questo settembre, popolato da gente che viene da tutte le parti del mondo, in particolar modo anche una visita particolare, quella di alcuni giornalisti irlandesi che erano in giro per la Puglia per conoscere le tradizioni vinicole, però insomma rapiti dalla città e quindi portati non solo dall'amministrazione ma anche dagli amici della masseria Salinola per gustare e non solo vedere anche le bellezze del nostro territorio. Sì, stiamo vedendo per le strade tanti turisti, soprattutto non italiani e quindi con piacere stiamo riuscendo a percepire che la stagione si allunga, la stagione turistica si allunga che è sempre stato un po' l'obiettivo della politica turistica ostunese. Dobbiamo dire grazie per questo, essere onesti agli imprenditori che fanno di tutto per proporre soluzioni nuove per i turisti e creare occasioni per cui si aggregano in questo periodo comitive, pullman interi che abbiamo visto in giro. Per quanto riguarda questa particolare visita di questi amici irlandesi siamo particolarmente contenti perché si tratta di giornalisti che pubblicheranno su riviste specializzate del turismo notizie, informazioni, fotografie su Ostuni e questo non farà altro che accrescere la popolarità della nostra bella città in tutta Europa e in tutto il mondo. Hanno già promesso di ritornare, tanto sono rimasti affascinati dalla bellezza di Ostuni e quindi l'appuntamento sarà imminente. Grazie a tutti.